presentati sono nata a Steventon il 16 dicembre 1775 in un piccolo villaggio del sud dell'Inghilterra e ho lasciato questa terra a Winchester il 18 luglio del 1817 ho vissuto in un ambiente vivace e stimolante perché mio padre, che era un reverendo si occupò personalmente della mia educazione insegnandomi anche il francese e le basi dell'italiano purtroppo non mi sono mai sposata per via di alcuni pregiudizi che intercorsero tra la famiglia del mio innamorato e la mia come sei diventata scrittrice? questa delusione mi ha portato a rivolgermi alla scrittura facilitata anche da una grande collezione di libri di mio padre ho iniziato con Juvenilia tre raccolte dai toni umoristici di racconti, poesie, bozze, di romanzi e parodie che emulavano la letteratura dell'epoca e che erano scritti per divertire i miei conoscenti cosa ha ispirato la tua opera più famosa? è verità, universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie questo è l'incipit di orgoglio e pregiudizio nei miei romanzi racconto il mondo nel mio tempo e osservo vizi e virtù della mia generazione sottolineo il lato umoristico ma anche gli equivoci e i fraintendimenti che si snodano in tutte le mie vicende spesso legate a storie d'amore e soprattutto al raggiungimento della vita di coppia il mio tempo non era particolarmente favorevole alle donne scrittrici e vedevo il matrimonio come unico punto di arrivo Come sono state diffuse le tue opere? Da quando è stato pubblicato Orgoglio e pregiudizio nel 1813 è cresciuto nella sua notorietà di volta in volta sono stata classificata illuminista, neoclassica, romantica questo vale anche per gli altri miei romanzi come Ragione e Sentimento Emma e il non finito Sandington Nei tempi moderni i miei libri hanno avuto anche diverse versioni cinematografiche molto amate dagli spettatori Come cambierebbe la tua opera i giorni nostri? La mia opera può cambiare nei costumi nell'ambientazione ma resta il maneggio per conquistare l'amore perché le regole sono sempre le stesse L'immaginazione delle donne è molto rapida balza in un attimo dall'ammirazione all'amore dall'amore al matrimonio Orgoglio e pregiudizio potrebbe essere definito un romanzo di costume che ha come filo conduttore temi e modalità di quel tempo storico narra la storia di un giovane ricco e di buona famiglia Charles Bingley che affitta una tenuta nell'Enforshire provocando scompiglio e disaccordi tra le fanciulle del paese che vedono in lui un ottimo partito Bingley organizza un ballo a Netherfile durante il quale si innamora della primogenita della famiglia Bennett Jane da questo inizio si snodano una serie di situazioni che porteranno alla conclusione il romanzo si conclude con alcune lettere che spiegano al lettore come si presenta la vita dei protagonisti a vicenda finalmente concluse un progetto che promette bene in ogni particolare non potrà mai avere successo solo qualche piccola seccatura può evitare il pericolo di una delusione totale Grazie a tutti